Sono stati firmati in tarda mattinata i decreti di nomina dei quattro nuovi assessori che entrano a far parte della giunta comunale di Barletta. Tutte confermate le indiscrezioni trapelate da Palazzo di Città negli ultimi giorni. A completare le operazioni di rimpasto avviate dal sindaco Cannito circa un mese fa mancava solo il nome della lista Amico, in sostituzione dell'assessore ai servizi sociali Francesca Piccolo, il cui mandato nell'esecutivo è durato appena sei mesi. Sabato scorso è stata sciolta all'ultima riserva. Entra in giunta l'avvocato Anna Maria Scommegna, nel 2018 candidata al Consiglio Comunale nelle fila del PD, con deleghe a personale, gare e appalti, pari opportunità, affari generali e politiche europee. Ricoprirà invece lo stesso ruolo affidatole durante il primo mandato di Cannito il neoassessore alla polizia locale Elisa Spera, indicata dalla lista Barletta al centro. Marcello De Gennaro è il nuovo titolare della delega allo sport. Il referente per la BAT di Sport e Salute, ex CUNI Servizi, è stato proposto dal gruppo di Forza Italia. L'avvocato Rosaria Mirabello, già componente del direttivo del comitato di quartiere, zona 167, è la nuova assessore ai servizi sociali, su indicazione della lista Cannito Sindaco. I quattro volti nuovi dell'aggiunta subentrano agli assessori uscenti Antonella Crescente, Francesca Piccolo e i già dimissionari Michele Loconte ed Anna Maria Riefolo. Il sindaco ha deciso di trattenere tra le sue mani la delega all'ambiente. Obiettivo del rimpasto, il rilancio dell'azione amministrativa e la ricomposizione degli equilibri interni alla maggioranza, nelle scorse settimane divenuti particolarmente precari. Domani in programma la presentazione ufficiale della squadra di governo, dove rimangono al loro posto il vice sindaco con delega all'istruzione Giuseppe Di Leo, l'assessore alla cultura Oronzo Cilli, quello al bilancio Giuseppe Germano, l'assessore all'urbanistica Pierpaolo Grimaldi e la titolare dei lavori pubblici Lucia Ricatti.